Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Oggi ricordiamo una chiamata alle urne importante, quella del referendum abrogativo sulla legge, sulla bocca. Ci troviamo di fronte a un referendum abrogativo, dunque si chiede l'abolizione della legge 194 sull'interruzione di gravidanza entro i 90 giorni dal concepimento comunemente definita come legge sull'aborto approvata tre anni prima dal Parlamento. Il partito radicale e diversi movimenti cattolici si erano attivati per raccogliere le firme su un fronte e l'altro, ovviamente fronti opposti, perché i primi ritenevano che la legge fosse troppo restrittiva, i secondi invece è troppo concessiva. Ancora una volta il quesito si fondava sulla doppia negazione, quindi un no all'abrogazione che equivaleva ad un sì nel merito, così come era avvenuto otto anni prima con il referendum sul divorzio. Una difficoltà non di poco conto che assorbì gran parte della campagna referendaria. Il paese e la politica si mostrarono estremamente distanti nel loro sentire. L'ADC, che era primo partito e partito di riferimento della Chiesa Cattolica, si preparava alla seconda sonora sconfitta. Il referendum si concluse con un 68% dei no, dunque a favore della legge sull'aborto e fu chiaro che per il no si espressero moltissimi cattolici. Grazie per la visione!